Benvenuti, grazie a tutti gli organizzatori del convegno, all'ordine degli avvocati, al teatro che ci ospita. Io sono un giurista, quindi mi interesso anch'io delle questioni giuridiche, però ho fatto la scelta di fare l'imprenditore, faccio l'editore nella vita. Quindi mi occupo, analizzo, studio le parti legate al diritto, ma da tanti anni, perché mentre studiavo, lavoravo anche, avevo fondato la mia prima agenzia di comunicazione al primo anno di università, ho avuto la possibilità di imbattermi nel mondo della creatività, quindi di lavorare da subito, concretamente, nell'ambiente che poi ha generato, diciamo, questa mia passione per il diritto d'autore, su cui poi mi sono specializzato, ho fatto la tesi di laurea su questo, e quindi, diciamo, ho unito le due cose. Il mio punto di vista è quindi sia giuridico, che in gran parte è stato già spiegato egregiamente dai colleghi che mi hanno preceduto, ma anche pratico. Io, per un, diciamo, non per dare un'elencazione di curriculum, ma adesso ho un fine, sicuramente non ho organizzato feste nei cortili della New York University, però ho fatto qualcosina a livello di organizzazione di eventi, a livello, diciamo, delle città che ci circondano qui in Italia, e per qualche anno sono stato catapultato con questa agenzia che rappresentavo, nell'organizzazione di eventi di altissimo profilo. Cioè abbiamo avuto a che fare, tra il 2001 e il 2009, con quasi una gran parte di artisti, sia musicali che teatrali, di maggior rilievo della cultura italiana, diciamo, quindi, dei cantautori, diciamo, di fama, quelli da top e classifica, diciamo, e anche stagioni teatrali. Mi sono occupato di organizzare eventi da Milano fino a Gallipoli, la città più a sud, dove ho lavorato e organizzato due stagioni teatrali. E questo perché ve lo dico? Perché ero quello che curava i rapporti con la SIAE. Ecco, oltre ad avere un ruolo nella scelta artistica, nell'organizzazione di tutti questi eventi, oltre 400 organizzati in pochi anni, tra feste di piazza, festival culturali estivi, mostre, fiere, concerti, stagioni teatrali, ogni paese dove andavo, ecco, ben ho sentito SIAE, il bimbo, già, ecco, ogni paese dove mi trovavo a lavorare, c'era un rapporto diverso, un rapporto diverso con il mandatario, il direttore, con il personale che lavorava agli uffici della SIAE, e cambiava non solo il tipo di rapporto, che nel caso più gentile, insomma, c'era una cortesia basic, diciamo così, ecco, ma anche proprio le tariffe, il modo di interpretare l'economia della gestione di questi eventi. e per cercare di alleggerire, visto che siamo all'orario dopo pranzo, mi piace iniziare con un episodio rappresentativo che mi è accaduto e mi è rimasto molto impresso, perché poi c'è da dire che al termine di questa mia esperienza, perché poi mi sono concentrato, ho scelto di fare solo l'editore, quindi di libri, tra l'altro, quindi ho preferito non proseguire, soprattutto poi negli anni critici che lo spettacolo ha subito tra il 2008 e il 2012, diciamo, sono stati anni molto drammatici, e quindi al termine di questa esperienza io ho scritto un libro e l'ho intitolato Abolire la SIAE, ecco come è stata positiva questa esperienza, potete capire. Abolire la SIAE, inizialmente la prima edizione era Perché Abolire la SIAE, poi ho tolto proprio il perché, ecco. Io l'ho comprato, infatti, senza conoscerti ancora, perché il titolo era troppo allettante. Sì, tra l'altro non è un libro così cattivo, molti direttori SIAE, ma adesso chiaramente l'edizione è rimasta non aggiornata. Nelle ultime righe concludevo dicendo spero di non dover più aggiornare questo benedetto libro, invece mi sa che dovrò perseverare perché la situazione è molto in evoluzione e i cambiamenti sperati non sono ancora avvenuti del tutto e quindi c'era la necessità ovviamente di seguire, questo dibattito di oggi lo dimostra, la situazione, l'evolversi della situazione. Il libro non è così cattivo, nel senso che io non ho mai affermato che SIAE vada veramente abolita, nel senso tolta la SIAE, cioè, né ho mai disconosciuto l'importanza e il ruolo che questa società svolge, svolge soprattutto nella tutela del diritto d'autore. Io vorrei che veramente diventasse lo scopo di queste mie riflessioni e quello di fare in modo di cogliere gli errori che questa società, a causa di questa posizione di monopolio, che quindi lascia inevitabilmente da parte tante riflessioni anche sul piano etico, se vogliamo, che cosa ha fatto? Ha trascurato completamente i rapporti, a mio modo di vedere, con gli utilizzatori, con i suoi stessi iscritti, con chi il diritto d'autore lo voleva pagare e capiva che è importante pagarlo, cioè non è che va negato questo, cioè è l'autore giusto che riceva il compenso per ciò che crea e questo è fuori di discussione. E occorre un ente, un forte, che sappia tutelare questo, che prevenga abusi, che vi sappia eventualmente individuare e azionare le dovute azioni a fare in modo che ciò non avvenga, e gli abusi che vengano puniti. Però c'è stata molta confusione sul modo di comportarsi. Il problema della CIA, io sono arrivato ormai a questa conclusione, che il problema della CIA è soprattutto un problema di comunicazione e di immagine, cioè la gente ha bisogno di capire che cosa paga e soprattutto perché, e soprattutto perché in quel modo, perché deve arrivarmi e farmi irruzione nel locale un personaggio che deve usare modi così un po' autoritari, ecco, vabbè, un pubblico ufficiale, però non c'è scritto che deve essere anche antipatico e scortese, questo non lo dice la legge, insomma. E quindi è questo che non viene percepito bene, perché in fondo è sacrosanto pagare il diritto d'autore, ed è sacrosanto che venga anche gestito bene, che venga gestito con una certa trasparenza, che venga gestito rendi contando i compensi correttamente, e quindi tutta una funzione che è un po' mancata. Quindi, per tornare sull'episodio che mi ha un pochino acceso il lume, diciamo, su questo tipo di argomento, di riflessioni, è stata l'incarico che ho ricevuto come agenzia di comunicazione nel 2006, a sorpresa, devo dire, dal Comune di Piacenza per organizzare i Venerdì Piacentini, che è una delle manifestazioni storiche dell'estate piacentina. Le organizzai per due edizioni, nel 2016 e nel 2017. Era la prima volta, io mi sono laureato a Piacenza la Cattolica, e per me era un orgoglio servire la mia città. Cioè, qualcuno mi aveva notato, e quindi per me era un grande entusiasmo. accettai senza neanche pormi il dubbio, il problema della questione economica, cioè così, per il piacere di organizzare l'evento più importante della città in cui vivevo, in cui condividevo studi, passioni, amicizie, eccetera. Però non ci avevo mai lavorato. Io l'ho lavorato a Lodi, per esempio, a Lodi al sole, in tante altre città, ma a Piacenza non mi era mai capitata. Quindi, la prima cosa che si fa, allora, questa manifestazione, che cos'è? Una specie di notte bianca, ripetuta per otto venerdì consecutivi, dove in ogni piazza della città, del centro storico, si svolgono in contemporanea più eventi, più iniziative. E contemporaneamente vengono lasciati aperti i negozi per lo shopping. Quindi, registrammo presenze di 20-30 mila persone a sedia nel giro, diciamo così, ecco, di tutta la città, di gente che ovviamente si spostava da una piazza all'altra, comprando, ascoltando, sedendosi ai tavolini. Insomma, una cosa molto bella, devo dire la verità. Però, chiaramente, non si poteva pensare di portare Bruce Springsteen in ogni piazza. Ecco, bisognava creare dell'intrattenimento, dedicando poi alla piazza principale l'evento di punta, ecco, quella più capiente. Io andai dall'ufficio CIAE, all'epoca diretto da un direttore, ovviamente, un mandatario, e mi presentai, allora, una cittadina dalle forti tradizioni, dalle forti abitudini, quindi vedere improvvisamente un nuovo organizzatore per giunta giovane che non aveva mai lavorato lì, ecco che subito ho detto, questo lo spolpiamo ben bene, non ha alcuna esperienza, riusciamo sicuramente a sparare più che possiamo per cercare di racimolare il più possibile. Questa è stata una sensazione, ovviamente. Perché? Perché quando mi sono seduto lì davanti a dire che cosa dovevo fare, mi è stato fatto un preventivo. Allora, tenete conto che il Comune finanziava la manifestazione con 30.000 euro, pochissimo, qualche sponsor bisognava cercarlo, soprattutto perché erano otto serate, ogni serata conteneva 4, 5, 6 eventi. Quindi immaginate voi, tra impianti audio-luce, marcascia degli artisti, catering, vari servizi, insomma, le cifre, i soldi pattono. Insomma, il preventivo che mi fece tabelle alla mano, quindi con un certo tentativo di rendermi trasparente tutto questo, il mandatario arrivò a 24.000 euro. Cioè io avrei dovuto pagare 24.000 euro di SIAE su 30.000 euro di finanziamento comunale. Io, incredulo, posi tremante, un po' così, diciamo, quasi titubante, ecco, la domanda, scusi, ma io come li pago gli artisti? Eh beh, ma sta bene, sono queste. Mi ha fatto vedere, sono queste. Cioè, ma su che calcolo lo fate? Scusate l'ignoranza, no? Poi io provavo a fare domande un po' alla Socrate Maniera facendo finta di non sapere. Allora la risposta è stata beh, Piazza Cavalli può contenere 25.000 persone, Piazza Borgone contiene 7.000, Piazza Duomo 15.000. Sì, vabbè, ma non è che ci sarà Ligabue, appunto, o Massimo Ranieri in piazza, ci saranno gruppi emergenti, gruppi locali, poi sì, una serata ci sarà un artista di punta, però quando avremo mille persone in ogni piazza penso che sia un record, senza contare che la gran parte delle persone girerà per i negozi, nelle strade, il mitro, poi non ha. Ah, ma non vuol dire niente, noi dobbiamo fare la capienza, poi mi fa, è gratuito, a proposito, è gratuita la manifestazione. Sì, sì, certo, è gratuita, ma la conoscete. Ah, ma gli altri anni non era mica gratuita. Come non era gratuita? Già, è comunale, le piazze sono aperte. Eh, no, ma lei ha sponsor. Sì, stiamo cercando qualche sponsor. Ebbè, allora non è gratuita, perché la CIA riesce a fare questa distinzione. Quando uno dice gratuito, non vuol dire che... È ingresso. È ingresso gratuito, ma è gratuita nel momento in cui la paghi tu, cioè la stai pagando proprio tu, di tasca tua, e la rendi gratuita anche al pubblico. Se te la stanno finanziando enti, piuttosto che sponsor privati, allora quella non è più gratuita, nel senso che tu la stai pagando coi soldi, coi contributi di terzi, e quei contributi sono soggetti al pagamento e al diritto d'autore. Quindi lui andava a prelevare anche da quelli. Quindi devo aggiungere un altro 5% sul 75%, insomma, ecco, adesso non ricordo esattamente là. Mi pare un 5%. Per un concessionario e un Peugeot che avevamo, e per due macchine esposte in piazza, un supermercato che ha messo lo striscione sotto al parco, ecco. E quindi la cifra aumentava ancora di più, affinché io sono andato dall'assessore alla cultura dell'epoca, e gli dissi, io rimetto il mandato, ecco, perché la manifestazione non si può fare. Praticamente tutti i soldi che ci date vanno alla CIA. Chiaramente poi ne nacque una negoziazione, e guarda caso, improvvisamente, dopo una trattativa, devo dire, abbastanza impegnativa, in cui l'assessore ci ha dovuto mettere la faccia, è saltata fuori l'applicazione delle tariffe minime. Cioè, minime. Cioè, io anziché 3.000 euro per la piazza principale, andavo a pagare 180 euro. Perché, ecco, insomma, una bella differenza tra il prima e il dopo. Ebbene, direi. Quindi, io parlo di queste cose più che altro. Poi, la cosa sono andate poi lisce, devo dire la verità, non ci sono state. Perché poi, una volta che trovi la chiave, non è che stiamo... Si crea un rapporto, si crea comunque... Però c'è sempre un po', ho sempre avvertito quell'aspetto un po' conflittuale. Cioè, alla fine, io sono uno che sta entrando a pagare. Non sono un pirata che scarica musica illegale. Non sono uno che non la paga e si fa trovare dall'ufficiale che arriva a controllare senza il permesso. Ma sono uno che vuole riconoscere il diritto d'autore. La prima cosa che ho fatto, non ho appena ricevuto il carico, è andare alla CIA. Quindi, già solo il fatto di buttarla lì, in questo modo, così un po' rigido, ha tal punto da farmi demotivare dall'organizzare l'evento e ho saputo, lo so, che tanti rinunciano a organizzare. Questa è una cosa che va contro gli stessi autori che la CIA tutela. Cioè, non può essere che un organizzatore, che la principale fonte, diciamo, perché dai, i passaggi radiofonici, a meno che non sei zucchero, è un po' complicato per i piccoli autori, ma l'organizzatore di eventi ti permette di avere l'esibizione live, ti apre le porte ai locali, a tante cose, che sono una fonte primaria di entrate per gli artisti, per i giovani artisti. Quindi, impedire, diciamo, rendersi ostacolo di una cosa che invece dovresti avvantaggiare, tutelare, ma anche favorire, l'ho trovata sempre una grande contraddizione. È un problema che danneggia indubbiamente l'immagine, ha danneggiato per anni l'immagine, quell'immagine che la stessa si è attraverso l'ex consigliere Arduini, aveva palesato a un certo punto, quando è arrivato lo spettro della concorrenza, ha detto che dobbiamo smetterla di essere gabellieri. La nostra immagine non può ridursi a quella di riscossori, cioè di persone che vanno, fanno irruzione nelle piazze, nelle feste parrocchiali, nei matrimoni, a dire, con quella mala fede, di dire vedrai che lì troviamo qualcuno che non sta pagando. Quando si presenta qualcuno ai nostri uffici, dobbiamo essere un po' più sorridenti, più disponibili, più chiari nell'esposizione, dobbiamo trattare il nostro cliente come qualcuno che sta venendo lì, a favorire l'attività per cui noi lavoriamo, cioè la tutela del diritto d'autore e favorire il lavoro degli artisti che tuteliamo. Quindi non dobbiamo essere, come dire, conflittuali. C'è stata questa lampadina che si è accesa nella, diciamo, nella massima dirigenza della SIAE, ma ancora si fa un'enorme fatica evidentemente ad applicarla perché abbiamo visto come ancora oggi si troviamo sui giornali spesso situazioni dove appunto ci sono rapporti di questo tipo, conflittuali, molte discrepanze. Prima l'Avvocato Vitale parlava del deposito cauzionale e mi aveva lanciato un assist che io raccolgo. Qui a Milano una volta organizzai un concerto di una band appena emergente, molto emergente, che piaceva alle ragazzine, era proprio un gruppetto che era uscito da qualche talent, all'epoca non c'erano i talent, ma era qualcosa di simile, forse Sanremo, con la Sony che era la casa discografica, si decise di organizzarlo all'Alcatraz perché poi c'era anche un TV, voleva fare delle riprese e quindi volevano una location bella che piacesse ai giovani, però l'Alcatraz fa 5.000 posti, noi ne aspettavamo 500-600 persone. Quando in pre-vendita avevamo venduto 300 biglietti, andai alla SIAE competente per zona e mi chiese 11.000 euro di deposito cauzionale e io chiesi se si poteva chiudere un occhio facendo un calcolo spiegando che comunque l'avevo organizzato in diverse altre città e che con tutti i direttori bene o male guardavamo un po' al dato delle pre-vendite, facevamo un po' una previsione, però 11.000, cioè se lei calcola la presenza di 5.000 persone è impossibile, cioè adesso lei mi costringe a un esborso anticipato che poi mi dovrà quasi tutto restituire dopo, non c'è stato verso. Abbiamo dovuto pagare 11.000 euro per fare il concerto dei, non dico il gruppo, per rispetto, perché fu un bellissimo concerto, non è quello il problema, però non voglio ovviamente macchiare di queste cose, non devono riguardare quell'artista che ha tutto, ecco, il diritto di avere, di essere lasciato fuori dalle bene tra organizzatori che si ha. Abbiamo avuto 800 persone, per ridarmi quasi 9.000 euro si ha e impiegò un mese. questo, sì, tutto sommato sono stato abbastanza fortunato, però fu un concerto in perdita, come avrete capito, cioè, per noi che eravamo una piccola agenzia di promoter, questi soldi sono vitali, ci si rischia di andare veramente in chiusura, non si poteva lavorare in quel modo ed è anche uno dei motivi per cui alla fine ho preferito non perseverare in quel tipo di situazione perché era davvero complicato muoversi in quella tutti pretendevano ma poi i guadagni erano veramente pochi a meno che non avevi la possibilità di organizzare grandi nomi in location adeguate ma di chiaramente tutto un altro discorso. Questo del deposito cauzionale è un discorso che mi fa mi permette di allacciarmi anche a un altro problema che negli anni si è avuto con SIAE che è quello del bilancio il bilancio un po' tra virgolette uso questo termine gonfiato nel senso che il bilancio è corretto da un punto di vista tecnico ma in molti anni si sono utilizzate le rendite finanziarie e in questo per esempio l'avvocato Scorsa che molti di voi avranno letto l'ha rilevato più di una volta nelle sue analisi il bilancio SIAE cioè che cosa gli interessi che maturano per la lentezza con cui SIAE paga paga che cosa gli autori stessi la ripartizione dei diritti d'autore e anche la restituzione delle esatto il dopo cioè la restituzione delle somme che tu hai dato in eccesso come causioni e questo fa sì che chiaramente gli interessi in banca maturano o crescono e quelle rendite permettono di ammortizzare hanno permesso per anni di ammortizzare un bilancio disastroso che diciamo la verità se fosse capitato a me con la mia azienda di avere un bilancio di quel genere io non sarei qui nel senso che proprio avremmo decretato fallimento invece un'azienda pubblica può permettersi tutto questo in regime di monopolio poi se lo può permettere ancora di più è chiaro quindi allora che tutto questo discorso si anche se da un punto di vista tecnico giuridico ha la sua rilevanza a mio modo di vedere ha la sua rilevanza più che altro da un punto di vista di immagine e il fatto che questo ente venga visto dai cittadini come una rottura di scatole o qualcosa che ti arriva una sorta di controllo di voler ficcare il naso anche nel cortile di casa tua se fai una festa di compleanno atteggiarsi quasi come un abuso di potere perché tu vabbè controlli che tu utilizzi musiche tutelate a territorio e che paghi i diritti però in realtà spesso gli atteggiamenti che sono esibiti in questa attività di controllo diciamo che la CIA negli anni è stata percepita come una sorta di equitalia della musica del teatro ecco occorre ripartire da quello in parte dopo quello che è successo riguardo al commissariamento perché poi a un certo punto la macchina si era veramente rotta le dimissioni di Assuma per l'avvocato Assuma il commissariamento della CIA a prima volta e poi successivamente quando in qualche modo si stava iniziando a riprendere qualche discorso riguardo anche all'etica di come svolgere le proprie manzioni è arrivato il fartego diciamo dell'inchiesta su Gino Paoli che era il presidente dell'epoca e allora c'è stato poi il là che ha dato il via alla rivoluzione la rivoluzione che poi è stata favorita e non mi si venga a dire che la concorrenza non serve a niente eccetera soltanto la paura della concorrenza ha generato in Siare un'attività di rinnovamento straordinaria che non ci può che lasciare contenti devo dire la verità io personalmente sono molto felice di questo e quando mi chiedono consulenze su questo argomento credetemi per quanto io sia critico ma non sono mai stato distruttivo cioè io ancora suggerisco a tanti giovani e a tante persone che me lo chiedono di scriversi a Siare e quando mi dicono mi chiedono per le questioni dei concerti degli spettacoli permessi spiego chiaramente devi andare a Siare devi fare questo devi fare quest'altro eccetera eccetera magari li metto in guardia se ti chiedono un deposito cauzionale dove lo fai lo spettacolo al teatro Italia di Gallipoli che fa 2000 il più grande della Puglia dopo il Petruzzelli fa 2000 posti e magari ti chiedono lì per fortuna c'era un direttore davvero molto gentile questo problema non si è mai posto però sempre per il discorso che cambia da paese in paese però se uno deve andare in un teatro di quella capienza lo metto in guardia prova un po' a trattare su queste cose che ti potrebbero chiedere se trovi magari il mandatario un po' stile un po' rigido eccetera quindi insomma questo è importante è importante anche il modo con cui si ha esercito questi controlli anche riguardo ai piccoli il commercio l'esecuzione la radio accesa ecco ma è il caso di accanirsi in questo modo io non dico che va lasciata accesa e non vanno pagati i diritti d'autore ma c'è modo e modo recentemente pochi anni fa c'è stata una lettera che ha fatto scandalo che è stata inviata dalla CIAE ai commercianti per intimarli al pagamento del diritto d'autore con presunzione di malafede perché veniva mandata a tutti e questi si vedevano ci sono mi pare di averlo scritto anche nel libro c'era proprio anche una sorta di elencazione delle sanzioni piuttosto mettetevi nei panni di uno che non conosce i meccanismi della legge e del diritto e sente parlare di denuncia penale ecco si comunica che la legge 633-41 articolo 171 questo era scritto nella lettera mandata ai commercianti prevede la denuncia penale alle autorità di polizia giudiziaria in caso di mancata richiesta di autorizzazione alla CIAE dei relativi pagamenti in caso di diffusione o esecuzione musicale in qualsiasi forma si invita pertanto a regolarizzare la posizione nei tempi indicati onde evitare seguiti penalmente rilevanti inoltre l'installazione di apparecchi sonori radio, tv, lettori chiavette pc in pubblici esercizi negozi magazzini alberghi strutture extraalberghiere eccetera è soggetta a rilascio una preventiva autorizzazione parte della CIAE alla corrispondizione di un canone di abbonamento ecco questo tipo di comportamento spaventa di un'esercizio di un'esercizio che ha il bar alla Bovisa per esempio sì perché comunque si tratta spesso di piccoli esercizi di piccoli esercizi commerciali in quel periodo erano arrivate quelle di SCF anche quelle di SCF hanno creato poi una spavento enorme da parte di molta gente che ha spento la radio ha detto io tolgo la radio dal negozio e non bastava non bastava perché c'è gente che ho scoperto proprio perché ho fatto qualche consulenza anche di recente che la continuava a pagare anche con la radio spenta dico scusa ma cos'è che stai pagando eh ma sai io ho paura non voglio avere problemi ecco questo terrorismo pensavo fosse il canone radio sì ecco anche quello è un altro capitolo però ecco recentemente per esempio proprio prima di venire qui pochi giorni fa ho saputo con sollievo che un gestore di un residence in una località turistica un residence non è un albergo è un palazzo di appartamenti dove ognuno è indipendente dove c'è però una reception una sorta di portiere che controlla le entrate le uscite dalle chiavi eccetera ora a questo signore anni fa gli arrivò questa letta e lui iniziò a pagare la CIA ma lui non aveva mica la diffusione della musica nell'atrio della niente anche quando mi accorsi di questa cosa perché gli arrivò evidentemente non ricordo l'episodio ma perché stai pagando la CIA scusi che come c'è diffusione nelle camere c'è qualcosa fate delle feste che vada ah no a me è arrivata così ma hanno detto che mi denunciano e io non voglio avere problemi perché va pagata cioè lui insegnava a me che va pagata cioè lui mi diceva proprio convinto no no guardi va pagata ti arretta a me glielo dico non voglio peccare di presunzione ma le dico che non va pagata insomma fortunatamente complice probabilmente il cambio della la sede che è stata dismessa con come dire accorpata un'altra sede CIA quando questa persona andò timidamente a dire ma mi hanno detto che gli hanno chiesto ha trovato una persona di buona intelligenza che gli ha chiesto ma lei diffonde musica la radio no allora mi ha pagato l'elite ecco oh alleluia quindi ci sarebbe da chiedere i rimborsi per tutto quello pagato ingiustamente indebitamente negli anni precedenti però poi uno magari vuole evitare lungaggini cose ci sia quel che è stato è stato basta che ora non la pago più mi libero di questo di questo problema e la reazione a quella lettera fu emblematica nel 2014 già direttore della SIAE strigliò i suoi collaboratori e disse queste parole amministrare le opere affidate in tutela con stile credibilità e autorevolezza solo una società che si propone con stile e credibilità e con l'autorevolezza che deriva dal valore della propria missione può ottenere risultati stabili e duraturi e anche qui alleluia due volte perché finalmente ci si rende conto che il modo di comunicare il modo di fare cultura perché se tu vuoi diffondere anche una cultura del diritto d'autore e spiegare che cos'è devi saperlo fare mi viene in mente quella bella manifestazione che fanno ogni anno parole non ostili che ci insegnano a comunicare anche fra di noi in modo non conflittuale usando le parole giuste facendo capire che è una cosa anche autoritariamente cioè devi farla ma c'è modo in modo di spiegartelo e soprattutto va motivato perché se uno non capisce il perché di una legge e la percepisce come ingiusta e si apre poi un problema se è di una conflittualità con pezzi diciamo poi della società che evidentemente non comprendono e si ribellano a questo tipo di imposizioni quindi questo è assolutamente importante per quanto sia abbia negato che la paura della concorrenza abbia influito in qualche modo nel tentativo di rinnovamento è innegabile che questo abbia portato a un miglioramento dal 2014 la direttiva Barnier è proprio del 2014 quindi guardate questi primi esempi primi segnali arrivano proprio in quell'anno lì poi complice il governo italiano devo dire è una posizione che va analizzata quella del governo italiano anche qui le leggi a mio modo di vedere io sono molto la mia seconda materia la filosofia del diritto diciamo prima sono interscambiabili per me le leggi devono avere come fine il bene comune devono essere giuste cioè quindi diciamo la la CIA deve deve cercare insomma di trovare il fine del scusate bevo un po' della 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 concorrenza e e quindi diciamo la posizione del governo italiano è in parte comprensibile perché ha dato tutto il tempo a CIA di mettersi a posto cioè di cercare di fare in modo che l'eventuale apertura nessuno sapeva come sarebbe andata cioè ci sarebbe stato il problema eventuale di una vera liberalizzazione dei diritti d'autore quindi eh all'epoca il governo che se ne occupava aveva ha pensato dire ok allora facciamo una cosa abbiamo tutto il tempo neanche tanto però abbiamo tutto il tempo per ricevere la direttiva cerchiamo di fare in modo che questa direttiva venga recepita il più tardi possibile anche se ci becchiamo qualche ritardo qualche cosa insomma così tanto siamo abituati ecco non è la prima volta che lo semplifico in maniera ecco poi magari non è andata proprio così ma il senso secondo me è stato questo cioè consentiamo a CIA di fare in modo di trovarsi pronta per quell'eventuale appuntamento nel momento in cui noi liberalizzeremo il mercato CIA deve essere un competitor pronto per stare sul mercato questa diciamo era l'intenzione secondo me neanche tanto velata intanto che SAM rinfinziava a operare appunto facendo appello sulla direttiva e quindi diciamo c'è c'è questa questa cosa assolutamente un pochino ecco di volerla a mio modo diciamo le parole come stanno favorire perché e allora perché giustifico tra virgolette in parte questo atteggiamento perché come ha detto il ministro Franceschini non ci dobbiamo dimenticare che CIA custodisce e tutela un patrimonio immenso immenso di cultura musicale artistica teatrale che sta è un bagaglio fondante importantissimo della nostra identità della nostra identità culturale proprio del valore della nostra nazione diciamo così non dimentichiamoci anche come diceva giustamente l'avvocato Librandis stamattina che la CIA è stata fondata da personaggi che hanno fatto hanno dato lustro storia piace citare anche il premio 9 Giuseppe Carducci ecco alla nostra cultura quindi è evidente che tutto questo non poteva essere lasciato immediatamente in balia dell'incerto quindi da un lato se vogliamo la tutela del patrimonio artistico culturale italiano è un fine che giustifica i mezzi diciamo così li giustifica in parte perché poi come sappiamo l'Unione Europea è basata sul principio della libera concorrenza quindi tu stai in qualche modo trovando un escamotage per cercare di farci credere che il monopolio CIA sia efficientissimo perché l'unica clausola diciamo così della direttiva Bernier che aveva diciamo una particolare importanza nel ricevimento era quella del fatto che la direttiva non imponeva l'abolizione del monopolio diciamo la suggeriva la caldeggiava per i principi che sono fondanti dell'Unione Europea del mercato comune però non la imponeva perché la direttiva diceva meno che un monopolio non sia particolarmente efficiente efficace in quella determinata circostanza ha un fine eticamente anche insomma pubblicamente importante e fondamentale allora occorre smonopolizzare ma se ha tutte queste caratteristiche potete mantenerlo però cercando di evitare ostacoli che possano in qualche modo poi impedire ecco creare delle forzature il governo italiano ha preso un po' la palla al balzo questa cosa qui si è giocato tutto il tempo a disposizione in modo eccezionale al mio modo di vedere anche se poi non condividiamo gli esiti di questa attività almeno io non li condivido pienamente però c'è stato sicuramente un buon lavoro da questo punto di vista perché si è arrivati appunto a studiare un meccanismo che permettesse di mantenere di fatto un monopolio di fatto e quindi una liberalizzazione fatta neanche a metà a un quarto diciamo così consentendo alle associazioni non a fini di lucro di unirsi diciamo di fare anche raccolta di proventi di diritto d'autore quindi se vogliamo una legge ad hoc una legge che togliendo un privilegio ne mette un altro ecco così toglie il privilegio del monopolio cambiandone un po' l'aspetto cambiandone la forma ecco così e diciamo che però nel frattempo si ha e ha fatto delle cose importanti come dicevo prima c'è stato una su tutta l'attenzione rivolta ai giovani una delle prime critiche che sono sempre state rivolte a SIA è stata quella di pensare solo ai big di fare separazione tra artisti di serie A e artisti di serie B ecco devo dire che ci sono state numerosissime azioni di SIA attività a favore oltre a quella del non pagare per i concerti sotto i 200 persone tra l'altro è stata un'iniziativa dei sindaci questa è un primo fra tutto Dario Nardella a Firenze fu uno dei primi a sperimentare questa cosa a Torino non ricordo forse era Piero Fassino all'epoca il sindaco ecco quindi ci sono state iniziative importanti non far pagare l'iscrizione agli under 35 il border online diciamo così che può avere una sua finalmente snellezza perché anche la burocrazia ecco la burocrazia è una cosa che infastidisce molto l'utente le lungaggini eccetera quindi in tutto questo c'è stato un grande attivarsi un grande attivarsi ma nello stesso tempo anche la concorrenza ha fatto il suo e la sensazione è stata che comunque Siae abbia troppa paura di questa concorrenza e che abbia forte della sua posizione comunque dominante azionato una serie di meccanismi sleali noi non sappiamo realmente nel merito questo è una sensazione quindi mi assumo la responsabilità di dire una cosa così ma non c'è esattamente c'è un'indagine dell'antitrust che sta cercando di verificare questi casi in cui si avrebbe diciamo ostacolato l'attività di Samurif che poi la competitor principale Samurif che nel frattempo è uscita e io lo anticipavo nel testo già anni prima che cosa succederà quando artisti importanti inizieranno ad andare a Samurif è chiaro che Siae alla forza di un patrimonio di decenni le canzoni dei personaggi più importanti ma poi arriverà prima o poi un Vasco Rossi o una Mina degli anni 2500 degli anni 2000 arriverà qualcuno dopo e le cose si costruiscono è chiaro che adesso i due patrimoni musicali gestito da uno e dall'altro sono differenti ma chi lo sa che Samurif un domani non possa arrivarci quindi questo io ho detto basta che se ne sposti uno importante da Siae a Samurif ed ecco che inizierà il come dire l'esodo e ci sono stati casi oltre a Gigi D'Alessio Fedez eccetera c'è stato il caso clamoroso di Enrico Ruggeri che Siae stessa in un comunicato stampa ha mostrato costernazione e scomento per questa scelta perché lo considerava evidentemente insomma una pietra miliare con un fondamento un pilastro inscindibile però questi artisti evidentemente hanno delle ragioni delle ragioni inascoltate buttarla sul fatto che sia semplicemente una questione economica sappiamo tutti lavoriamo per cercare di guadagnare però io credo che l'economia in questo settore si misuri con la trasparenza nel senso che se Siae avesse rendicontazioni chiare lo stesso Assuma prima di dimettersi fece una dichiarazione contenuta nel mio libro dove spiegava quale bassa percentuale di tutti gli introiti Siae vada poi alla ripartizione del diritto d'autore un minimo molto inquietante quindi è un po' qui che bisogna lavorare ci stanno provando ma non perdono il vizio di avere quell'atteggiamento di potere di andare contro e secondo me è un po' giustificato perché non bisogna avere paura della concorrenza anche perché la domanda in conclusione del mio intervento che mi pongo è ma sarà veramente concorrenza anche se un domani venisse allora io al contrario del collega stimatissimo l'avvocato di Brandi io mi sono spesso battuto fino ad ora per una liberalizzazione totale lui ha proposto una soluzione più ragionata più mediata che prevede lo scorporamento dell'attività di riscossione di SIAE dandola a un ente che faccia la parte dell'antipatico se vogliamo ma riesaltando la funzione principale di SIAE quindi quella della tutela del diritto d'autore e la ripartizione di proventi agli artisti io sono sempre stato affascinato molto di più dal libero mercato totale ma mi rendo conto come ho detto prima che ci sono anche interessi culturali da tutelare e da andarci un po' piano nel fare le cose e quindi io ritengo la domanda che mi faccio vorrei vedere dati alla mano questo mercato del diritto d'autore è davvero così remunerativo abbiamo davvero il sentore fino adesso si sono affacciate due società di cui una era quella monopolista di SIAE che continuerà a fare il suo lavoro e SamRiff l'altra Batamou è già più orientata su altri tipi di servizi non ha proprio non si è messa anche perché non ha avuto l'escamotage della sede all'estero piuttosto che la controllata non profit LEA si chiama giusto? LEA ecco quindi diciamo questo è il il punto a mio modo di vedere l'attività di rinnovamento della SIAE può proseguire proseguire convintamente evitando questi abusi evitando conflittualità con la concorrenza inevitabilmente c'è l'osservazione di quello che fa la concorrenza allora io ho questa passione per la musica da una vita compongo per mio diletto o mi occupo di mixare e comporre delle parti tastierate per dei DJ per delle e sotto vari pseudonimi ho registrato sia a SIAE che a SoundRiff non io a SIAE l'ho fatto come coautore in realtà è il coautore che si è iscritto alla SIAE e ha registrato invece personalmente con uno pseudonimo sono registrato a SoundRiff e devo dire la verità quello che affascina di SoundRiff è la totale trasparenza tu entri sul portale e ti puoi vedere addirittura l'orario il giorno e dove è stata trasmessa la tua canzone tu sai che alle 17.12 di ieri alla Benetton di Bavia è andato in onda un tuo brano ecco cioè questa ovviamente non con questa contemporaneità cioè non c'è però quando i dati vengono acquisiti dal server e poi ci sono degli aggiornamenti che ti permettono di capire e poi vengono pagati puntualmente questi diritti facendo dei calcoli che sono tutti spiegati trasparenti ecco è lì che bisogna lavorare bisogna continuare a lavorare su quell'aspetto lì e senza temere e non ostacolare perché è curioso che una società privata che vuole entrare sul mercato debba inventarsi l'ennesimo escamotage per aggirare una legge italiana e la cosa che mi ha colpito è il comunicato stampa di reazione che si ha e ha avuto alla nascita di Lea come per dire occorre che intervengano le autorità perché è palese la simulazione l'elusione diciamo così di una legge per fare in realtà una società una associazione non ha fini di lucro che in realtà è controllata da una SPA e quindi altro che non fini di lucro è solo una cosa ingannevole che è fatta per aggirare la legge italiana ma lo dici anche ma lo sappiamo però domandati perché è stata costretta a fare questo allora già una legge che viene percepita come ingiusta e trova in chi vuole lavorare onestamente perché ci auguriamo no? che Saurif e tutti i competitor che vorranno entrare lo vogliano fare onestamente e lo diamo per ovviamente in buona fede lo dobbiamo dare per assunto cioè entrano sul mercato e devono la prima cosa che fanno è dover trovare un modo per entrarci perché la legge italiana e favorisce anziché il fine quello che vi stavo dicendo prima anziché guardare al fine di tutti quindi un mercato efficiente che funzioni lasciando il giusto spazio a tutti i competitor no c'è un qualcuno che ha una posizione dominante privilegiata su cui è stato costruito addirittura perché poi adesso sono stati risanati i bilanci sono stati stati fatte un'azione devo dire i complimenti ma non c'era da stupirsi perché Sugar è una mente il direttore SIA è una mente di una creatività insomma viene da un mondo poi giovane finalmente una persona che sa però ci sono ancora questi problemi cioè il commerciante che viene trattato male dal mandatario che gli arriva di piomba lì gli fa una piazzata non siamo ancora completamente fuori da questo sistema e quindi la domanda che mi faccio è perché avere così tanta paura al momento c'è solo Sandri piuttosto occupare questo tempo ancora intermedio perché non avverrà una liberalizzazione una riforma ulteriore per migliorarsi ancora di più e io credo che alla fine non ci sarà nulla da temere però un altro problema che poi mi poco è attenzione poi concludo la concorrenza non sempre produce in questo caso gli effetti positivi si sono visti perché l'attesa ha creato una migliore efficienza cioè io so che tra due anni devo adeguare una direttiva europea e allora ecco che ti do tutto il tempo per cercare di attrezzarti e ti aiuto ad attrezzarti ma quando poi entreremo davvero in una liberalizzazione ipotesi cioè sarà veramente così conflittuale il rapporto tra Sia e Sangoli è una domanda che mi pongo perché prima sono state citate le compagnie telefoniche ma le compagnie telefoniche ma veramente non li sparmiamo se siamo il team Wind Vodafone alla fine fanno cartello secondo me più o meno siamo lì finché non è arrivato un terzo completamente strano il Iliad che sta iniziando a promuovere una tariffa da 5 euro una roba mai vista ecco così anche se adesso ancora è tutto da verificare da tutte queste coperture eccetera ma questo è un altro discorso però ecco che nel mercato è entrato un altro competitor che spezza quello che ormai era diventato un monopolio a 4 la concorrenza la concorrenza nelle ferrovie avete visto qualche giovamento ma al momento ancora qualche cosa si è iniziata a vedere ma quanti problemi la competitor di Trenitalia ha avuto perché poi guardate anche lì l'anomalia cioè le reti sono come nella telefonia le reti erano del principale che era statale prima quindi poi sono di proprietà del principale competitor che era un po' come la CIAE se venisse liberalizzata adesso sulle ferrovie Trenitalia esce le ferrovie dello Stato quindi chiaramente il competitor RFI che è la proprietaria delle reti delle linee delle ferrovie della strada ferrata affittava le reti a Italo cioè è chiaro che affittandogli magari sulla Milano Ancona Intero si ritirò perché dice c'è la fitta a un prezzo troppo sconveniente poi va a vedere di chi è il RFI e di ferrovie dello Stato allora ecco è evidente la concorrenza o è concorrenza seria o altrimenti non lo è può essere anche sbagliata perché le aziende che poi si trovano sul mercato decidono di collaborare Mediaset Sky per esempio cioè alla fine vedete che si trova anche il modo di collaborare se proprio perché io credo lo dico anche con un po' di timore per questo tipo di esperienze che non è cosiddetto che sia il Samurif si trovino a offrirci poi in una sorta di concorrenza libera un servizio per cui convenga più uno o più l'altro potrebbe essere che poi si crei un monopolio de facto due cioè con l'alleanza diciamo sono tutti scenari possibili a maggior ragione proprio per questa incertezza del futuro il consiglio che darei a Siae è quello di perseverare sulla sua mission principale di continuare la ripulita l'immagine di guardare molto i rapporti con i propri utilizzatori di non farmi vedere più spot dove i bambini che scaricano musica dal computer vengono derubati della loro anima non so se ve lo ricordate al cinema si 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 entrava al cinema per guardare un film e prima della visione del film partiva questo spot inquietante dove il bambino era lì con la cuffia che scaricava materiale protetto del diritto del autore ragazzino e e poi usciva questa cosa rubare ti ruba l'anima e una cosa del genere si svuotava piano piano di tutto dei vestiti della cuffia della stanza della scrivania del computer ecco dico ma a nessuno spiegato a queste persone che stai trasmettendo questo spot a chi il diritto d'autore l'ha pagato cioè voi siete entrati a vedere lo spettacolo pagando state usufruendo dell'originale cioè tu non puoi trattare la pirateria l'industria malavitosa che ruba soldi al diritto d'autore confondendola con il ragazzetto che se non gli da 10 euro il papà o la mamma il disco non lo prende il cd l'unico modo e poi hanno capito che non bisognava dichiarare guerra allo streaming perché spotify hanno fatto di accogliere facciamola ascoltare questa benedetta musica ai ragazzi perché poi magari ascoltando 100 canzoni si appassionano ad un artista e vanno a comprare il cd o vanno a comprarselo originale scaricato all'anno 099 e una statistica ha dimostrato che da quando è arrivato internet con la distribuzione dei contenuti digitali persino quando c'era Napster gratuito che tutti scaricavano la musica gratuita è una statistica ha dimostrato che non ha aumentato le vendite dei cd originali ma io stesso ho usufruito di quello strumento per recuperare un sacco di artisti che non riuscivo a trovare sul mercato che ricordavo magari di cui avrei voluto trovare nome canzone e poi mi sono andati a comprare non tutti sono come me però voglio dire non siamo un certo l'utente singolo che si scarica la canzone il problema del diritto d'autore in Italia quindi è lì che deve capire di non confondere più l'utente il proprio utente che deve coccolare assistire educare consigliare far pagare ma con un certo modo con quello che invece è chi vuole derubare gli autori del loro mestiere quindi non pagando il diritto dottore e quella è un'industria malabitosa che merita tutt'altra diciamo trattamento io ho concluso di episodi ne avevo tanti non ho segnato tanti però mi rendo conto che non posso stare qui due ore a chiacchierare una piccola cosa che mi piace ricordare lo dico sempre per dire anche gli autori anche gli artisti devono cercare di trovare un attimo il modo di sapersi comportare in questo giro perché non è che solo la siare però diciamo che questi meccanismi il 10% sugli spettacoli il 15% se c'è anche sull'incasso se c'è anche la parte letteraria inducono alcuni a marciarci un po' sopra e voglio concludere con questo piccolo aneddoto che fa riflettere per dare anche una piccola spossa anche agli autori per non dire che dobbiamo solo guardare il lato di chi tutela un grandissimo cantante un cantante che stimo ho avuto il piacere di lavorare di livello nazionale mi fece una brutta sorpresa una volta praticamente la prima data della tournée di varie date di cui mi occupavo organizzato in un teatro di 1200 posti tutto a posto sapevo che il 10% se non sbaglio il vento sulla musica non risolvo più piccolo sbaglio il 10% sul biglietto d'ingresso doveva essere dell'incasso perché era pagamento chiaramente doveva essere dato a siare questo cantante inizia sul grande show tutto esaurito bellissimo ovviamente a un certo punto anche per io immagino ho immaginato sbagliando per rifiatare un po' come ogni tanto devo bere anch'io questo a furia di cantare a furia di cantare a un certo punto si ferma un attimo e dice vi racconto una storiella grazie per essere qui tutti dovete sapere che io come io ho iniziato a cantare e racconto una roba di un minuto su come voi iniziate a cantare una cosa come io vi ho raccontato come ho iniziato a rubarmi di siare c'è una piccola c'è una piccola differenza che lui aveva depositato quel minuto di racconto come opera letteraria alla siare quindi raccontando nel pubblico io ho dovuto pagare 5% in più perché c'era la parte di Piretore con questa faccia c'era la parte letteraria quando la parte letteraria è vero quando lui come non ha sentito la storia come ha iniziato a cantare eh ma quando cioè quando ha preso piatto che stava sudando come una no no quella è un'opera letteraria un'opera letteraria ma se prima dicevamo l'articolo 1 la creatività l'opera dell'ingegno deve avere i requisiti ma che requisiti ha è come se voi foste paganti oggi e io vi raccontavo la storiella di venerdì piacentino e la depositavo cioè la depositavo come un'opera letteraria mi piglio anche come autore mi prendo i proventi dell'incasso quindi l'organizzatore ha organizzato io mi prendo anche per aver ripetuto da me stesso la mia opera a voce ecco questi meccanismi qua forse forse andrebbero un attimino ripensati perché già stavi prendendo un lauto cachet ma lauto veramente l'interpretazione il diritto d'autore sulla musica e poi per un minuto di racconto veramente passato inosservato ma proprio inosservato ti sei preso a 500 in più della ecco non poteva rinunciarci che abbiamo visto perché perché ci sono questi meccanismi che essendo poi tutto depositato è chiaramente stato il direttore sia il direttore sia poi l'ha ricordato guarda che lui ha questa parte letteraria che è depositata a questa parte musicale che è depositata eccetera eccetera quindi andava pagato anche il fiato di questo cantante dovuto pagare ecco però sono cose simpatiche se vogliamo dopo che sei usciti dopo aver pagato dopo aver passato qualche anno io spero esatto io spero di io l'ho metabolizzato ormai ne parlo e spero di poter scrivere un'altra edizione è un beneficio mi auguro ripeto mi auguro che si ha e possa in fondo io non non la non la voglio vedere morta dico no ma anche perché ci ho dato tanti di cui soldi che mi diceva vabbè almeno per questo l'importante è che ci sia cioè se io vado alla cassa del supermercato e compro una cosa mi dicono grazie ecco c'è nel senso attenzione rispetto collaborazione etica professionale stile come ha detto la CIA stessa e lì poi se non c'è concorrenza che tenga io credo che non ci saranno problemi però continuare a utilizzare la posizione di abuso esercitando un potere in questi termini come abbiamo visto in questi episodi non giova al miglioramento dell'ente vi ringrazio molto grazie grazie